Un clima tutto natalizio e festoso, quello che ha accompagnato l'ultimo evento di UK Confederation Branch di Manchester, incentrato sul networking e sulla presentazione dei nuovi soci. Questa volta una grande novità, Samantha Del Vigna subentra ad Aldo De Leonibus nella guida del gruppo del Nord Inghilterra. Grazie a tutti i nostri amici, sono stati in grado di creare questo evento, che è stato un grande successo per il 2022. L'ultimo anno eravamo qui per il primo evento, e ora è il quarto evento qui in Manchester, quindi le persone, le persone, le persone, le persone come ogni volta a l'evento, e sono molto felice di vedere, e potete vedere che la comunità è crescita, e ovviamente sarà molto difficile di continuare con questo grande lavoro per 2023, ma spero che ci saranno più eventi, almeno per un anno ogni due mesi, quindi sto cercando di esprimere e fare un grande lavoro, e fare un'evento ancora meglio. C'è una grande attenzione qui all'evento, siamo davvero orgogliati di come le cose hanno avuto e come le cose hanno progredi questo anno, e stiamo cercando di un'evento più diversi background, e altre altre industrie, e stiamo davvero iniziando a vedere questo network che veniva insieme, e con molti membri aggiungendo l'evento e beneficiando l'evento. La location scelta per l'evento è stato Gusto, lo stesso palco che l'anno scorso ha dato il via all'avventura di UK Confederation sui territori al confine con la Scozia, motivo questo per tracciare un bilancio sull'esperienza. Una bellissima serata, davvero soddisfacente, i nostri clienti sono contenti, siamo contenti anche noi, quest'anno si può dire che lo stiamo chiudendo davvero in bellezza, abbiamo avuto tantissimi iscritti, ancora tanti questa sera, una serata pre-natalizia davvero in compagnia dei nostri clienti, amici e membri. Le premesse per questo evento erano fantastiche, ancora una volta UK Confederation sta dimostrando che il lavoro fatto negli scorsi mesi sta dando i suoi frutti, siamo sicuri che l'anno prossimo, il 2023, vedrà la crescita continuare, sicuramente sarà un motivo per avere nuovi associati, per ripetere questi eventi e aggiungere valore a tutti i membri di Confederation. Questo è un incontro meraviglioso, è l'ultimo di quest'anno, siamo molto contenti, ci siamo impegnati parecchio, soprattutto alcuni di noi, per organizzarlo, abbiamo avuto un grande riscontro, ricco di attività e persone diverse, in settori diversi, da un po' tutta l'Inghilterra e quindi siamo veramente molto felici e anche molto grati a tutti quelli che sono venuti che ci aiutano ad ingrandirsi. Anche questa volta molti, i soci che hanno avuto la possibilità di presentare la loro azienda, come Wine Corner e Leonardo's. Aprivo Leonardo's perché è stato sempre un nostro punto fisso, noi volevamo aprire qualcosa di italiano e ci sono diversi ristoranti italiani, diverse attività italiane, ma quello che volevamo fare era qualcosa di particolare e una cosa che ci piaceva e che va anche tantissimo in Italia perché il prodotto, la pasta è il prodotto principale italiano insieme alla pizza, noi facciamo sia pasta che pizza e il particolare di fare la pasta a mano è una cosa che piace tantissimo anche agli italiani, quindi è una cosa senz'altro vincente e volevamo iniziare questa avventura con questi prodotti perché sapevamo che sicuramente avrebbero avuto un risultato molto positivo. Ho fatto i 26 qua, questo è il primo a Manchester però sono stato anche a Londra, per me è un modo di conoscere anche i contatti italiani che lavorano anche in Italia, lavoriamo tanto in Italia, però è più per non dire amicizia, per avere una conoscenza perché nella vita non sai mai quando hai bisogno di una persona che ha un'altra attività e io preferisco, per me è più importante il tocco personale, allora quando vedo una dita non mi importa se è italiano o inglese, basta che per me non mi interessa più le persone che la dita e quando fai un evento così troverai sempre quello tocco personale, stai proprio parlando con una persona, non con un website o un telefono. Due attività diverse ma complementari che grazie a UK Confederation sono riusciti ad entrare in connessione. Il prossimo appuntamento è a gennaio ma già da ora è possibile registrarsi per le prossime presentazioni scrivendo la mail nordengland at ukconfederation.co.uk Delvinia from 2012 assist many individuals and businesses all over the UK and outside UK. Delvinia is specialized in research and development and double taxation act. We can help you with accounting, bookkeeping, tax planning, payroll, LTD, start-up, self-employed, self-assessment. Visit our offices in London, Stockport, Birchwood and East Midlands or contact us by mail or phone. Delvinia, the most helpful accountancy service in the United Kingdom. Delvinia. Delvinia. Delvinia.